Ciao a tutti, sono Elio Martino, faccio parte di una lista civica che si chiama Paderno Cresce che è presente sul territorio di Paderno Dugnano. Volevo fare i complimenti ai ragazzi juniores che sono andati a vincere il campionato italiano a Rappallo un primo posto e un terzo posto, secondi a squadre e un terzo posto dopo spareggio di un altro nostro giocatore nei campionati italiani, signores. Quindi parliamo di un club che è presente sul territorio ma che non ha un campo. Ho sentito dire dal sindaco di Paderno che non ci sono campi qui intorno che si è un po' abbassato la quantità di giochi. Io non l'ho mai visto sui campi il sindaco, comunque volevo dire che io gioco da 30 anni e abbiamo campi a Bovisio Masciago, Cusano, Paderno, speriamo che sia al centro e si riaprirà ma parliamo di Vedano, di Saronno, di Canegrate, di Lozza, di Vergiate. Ci sono tanti campi che ci sono in Lombardia, quindi non c'è solo Paderno Dugnano. Paderno Dugnano purtroppo è chiuso e noi vogliamo che sia ancora al centro degli obiettivi della nostra comunità di Paderno Dugnano.